Sport, benessere e solidarietà, questo il connubio. Migliaia di protagonisti affolleranno e coloreranno il cuore di Pescara. Si chiama Spring Day e si svolgerà il prossimo weekend. Ad unirsi insieme ci saranno l'amministrazione comunale, l'UNICEF, la WISP e l'obiettivo è duplice. Da un lato offrirà la città una cartolina che riporta indietro nel tempo, fatta di famiglie, sportivi e biciclette sul lungomare. Dall'altra una raccolta fondi che l'UNICEF destinerà le vittime del terremoto in Nepal. Un evento importante, due giorni su Piazza Salotto per quanto riguarda l'evento dell'UNICEF e poi che si concluderà con questo bel evento, questa bella biciclettata nella città di Pescara dove, voglio dire, grande collaborazione da parte della WISP. Dobbiamo tenere presente queste grosse e importanti realtà che sono presenti nel territorio e che ci sostengono e che ci aiutano per far conoscere Pescara con queste belle manifestazioni. Chiediamo in ogni caso, come al solito e come oramai i cittadini di Pescara sono abituati, una grande collaborazione anche dei cittadini perché insomma in qualche maniera ci saranno delle ordinanze che vederanno l'accesso al traffico in alcune zone della città. A giocare un ruolo di rilievo è la WISP, come ricordato dall'assessorato allo sport, impossibile costruire un appuntamento così partecipato e ricco di eventi senza il loro contributo. Un contributo che ormai diventa una tradizione immancabile. Bici in città è la 29esima edizione, quindi la dice lunga sulla nostra esperienza nell'organizzare eventi del genere. Quest'anno, così anche come l'anno scorso, abbiamo trovato un'intesa con Publi Event e con l'Unicef. Niente, siamo messi insieme, sponsorizziamo queste belle manifestazioni, sempre più a portata di bambini e di famiglie. Dall'anno scorso Bici in città ha avuto 2800 partecipazioni, quindi veramente abbiamo rubato tutte le strade della città, abbiamo invato la città con le biciclette, quindi è stato veramente un bel evento riscoprire la città senza le auto. E poi Piazza Salotto con due giornate di manifestazioni coinvolgendo tutte le associazioni locali, quindi anche questo è una bellissima cosa. Grazie. Grazie. Grazie.